Cari colleghi fisioterapisti, buon 2018. Vi accogliamo con questo videomessaggio in un anno straordinario, un anno importante. Un anno che segue il 2017, che ha visto l'approvazione prima della legge Gelli e poi della legge Lorenzin, legge che ci porterà all'istituzione degli ordini. Per noi è un obiettivo importante, ma per questo motivo rimane importante per noi essere rappresentativi. Lo siamo per decreto ministeriale, ma lo vorremmo essere anche per adesione associativa. È per questo che stiamo spingendo una campagna associativa di tesseramento molto importante. Ci stiamo dedicando con attenzione alla comunicazione, lo vedete nei social, lo vedete nel nostro sito. Sappiamo che in questo momento è importante dare informazioni puntuali, precise e tempestive, quasi in tempo reale. L'impegno però di questo anno deve essere, se possiamo, garantire il numero di 10.000 iscritti come è stato nel 2017, perché allora un'IFI rappresentativa forte e con un alto numero di associati saprà sicuramente inseguire gli obiettivi associativi. Abbiamo semplificato le procedure di iscrizione, per questo motivo chi si rinnova riesce a farlo con pochi clic, ricevendo un link a caso in una mail. Chi si deve iscrivere per la prima volta deve continuare a compilare i documenti cartacei e mettere una firma in originale, ma questo è appannaggio dei fisioterapisti veri che possono dichiarare di essere appunto dei veri fisioterapisti. Quindi un piccolo impegno di qualche minuto per compilare i documenti cartacei fa la differenza per chi può essere raccolto in associazione. Ecco, con questo messaggio quindi la speranza è di vedervi numerosi, sostenerci nelle attività e anche o semplicemente con la vostra iscrizione ad AIFI. Quindi buon anno e buona professione. Grazie. 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 Grazie.